c'era una volta milano la città della musica e aveva un teatro fantastico la scala dove avevano suonato e lavorato grandi artisti come il maestro giuseppe verdi vicino al duomo c'era il negozio di don lillo lo conoscevano tutti in città era in una stradina dietro la chiesa in primavera quella stradina si riempiva sempre di viole mammole e di musica era uno spettacolo vedere tutti quei fiori colorati sentire i loro profumi ed ascoltare la musica don lillo aggiustava ed accordava tutto il giorno gli strumenti musicali la sua fama si era sparsa in tutta la città e molti musicisti arrivavano da tutta italia e anche da vienna un'altra grande città della musica per portare i loro strumenti tromboni inglesi rotti fisarmoniche francesi senza due tasti violini bulgari ammaccati chitarre peruviane senza le corde tutto era passato tra le mani d'oro di don lillo aveva sempre aggiustato accordato lucidato e resuscitato gli strumenti musicali a nuova vita quando le campane del duomo suonavano a festa don lillo alzava gli occhi al cielo verso il lucernario ed interrompeva per un istante di lavorare perché si confondeva con tutto quel frastuono sorrideva e si scusava con i suoi strumenti musicali parlava loro come un giardiniere fa con i fiori amici miei un po di pazienza e poi riprendeva ad aggiustare flauti equadoriani pianole rumene violoncelli polacchi tamburi africani oboe tedeschi tutto quello che poteva esprimere musica e melodia lì c'era l'intero mondo delle note musicali don lillo diceva sempre che gli strumenti erano fiori profumati di musica ottoni e legni pregiati da cui sbocciavano le note e le melodie il suo locale era grandissimo e don lillo aveva solo due mani quindi gli strumenti sostavano nel negozio anche per tanto tempo felici di essere poi aggiustati da delle buone mani ma un giorno purtroppo arrivò in negozio il proprietario del negozio don frastuono era un uomo sordo alto arrogante che urlava sempre don lillo è ora di sbaraccare questo locale mi serve libero lo voglio vendere mi hanno offerto una buona somma il viso di don lillo assunse un'espressione triste perché lui non aveva i soldi per comprare il negozio don lillo le concedo un mese di tempo chiaro disse don frastuono e se ne andò sbattendo la porta don lillo in quel momento aveva fra le mani un pianoforte milanese da accordare e si mise a suonare una musica che aveva composto lui stesso tanti anni prima la suonò con tanto amore perché chi suona uno strumento queste cose le sa e le sente e le vive ogni giorno poi chiuse il suo negozio e si diresse verso casa ed allora nel locale successe un fatto davvero straordinario gli strumenti si misero a confabulare fra loro suonando il pianoforte milanese chiese come possiamo aiutare don lillo rispose la chitarra spagnola senza due corde organizzeremo noi un concerto qui dentro a pagamento verranno tutti e don lillo sarà salvo la tromba russa senza un tasto disse anche se manca un mi non importa lo posso ricavare ed il tamburo africano sfondato il mio suono è un po sordo ma in fondo in fondo sarà più dolce si alzò il frauto ecuadoriano io per tradizione sono magico quindi salterò di porta in porta a chiamare tutta milano e oltre volerò nello spazio attraverso le guglie del duomo e volerò come una rondine ogni strumento accatastato iniziò a suonare la sua nota e dire la sua opinione il pianoforte milanese concluse va bene suoneremo la musica di don lillo è bellissima poi aggiunse tu organetto turco malandato suonerai e all'occorrenza ti aprirai per raccogliere i soldi ti metteremo primo lì sulla porta con sopra scritto aiutiamo don lillo la notizia della chiusura del negozio di don lillo si sparse in tutta la città ed arrivò fino a vienna la gente diceva che peccato è la fine di don lillo è la fine di un'epoca ma la notte seguente era una notte incantata con la luna piena e il cielo impreziosito di stelle ed allora il lucernario si aprì ed uscì il flauto magico inizio a suonare una dolce canzone di richiamo e tutta la città si svegliò ed iniziò a seguire il flauto sino al negozio di don lillo il flauto sorvolò pianure laghi orizzonti e andò a chiamare gli abitanti di tante città e così tutti gli uomini che amavano la musica seguirono il suono melodioso era come un richiamo del piccolo flauto rotto ed arrivarono a milano che fatto straordinario successe quella notte incantata milanese in mezzo alla folla l'organetto malandato si aprì e cominciò il miracolo passato alla storia come il miracolo della musica dentro l'organetto turco e sfondato arrivarono un diluvio universale di monete tutti vollero lasciare una piccola offerta e don lillo fu salvo perché questa canzone oggi perché il primo festival di sanremo si svolse al salone delle feste del casino di sanremo dal 29 al 31 gennaio del 1951 alle ore 22 e fu condotto da nunzio filogamo furono in gara venti canzoni mentre a concorrere furono solamente tre interpreti nilla pizzi achille togliani e il duo fa sano e vinse nilla pizzi la musica la musica fa parte di noi la musica e in ogni cosa che facciamo ascoltate la musica ascoltate la musica che avete nel cuore continuate a seguire termoli wild e terre dei padri e vi do appuntamento a sabato prossimo intanto vi auguro una buona giornata un buon fine settimana e a presto ciao